ehi vai buongiorno oggi vi voglio presentare malavita malavita è un esemplare di massino napoletano una delle razze in assoluto più antiche che si possono trovare una razza di origine italiana in particolare di origine parte europea malavita è il cane dell'amico nunzio che in questo momento mi sta riprendendo massini in origine erano cani da guerra sono stati utilizzati per tantissimi cani come costretti cani da canicello c'è cani in cui avevano lo scopo di fare la guardiaia sono dei cani fondamentalmente di buon carattere come se potete vedere ma se stimolato in maniera adeguata sono possono essere degli ottimi guardiani e avere delle grossissime capacità offensive sarebbe sicuramente una razza da rivedere e da riportare in auge visto ormai la poca presenza di questi cani anche sul territorio napoletano se vi interessano questi contenuti continuo a seguirmi grazie a tutti